Sì, ma anche lei però, come era vestita? Aveva bevuto? Una donna subisce violenza ogni volta che viene aggredita verbalmente, fisicamente o psicologicamente. E ogni volta che qualcuno parla a bandera. È un problema di vestiti, di orari, di luoghi? No, è un problema degli uomini. La violenza è vigliacca. Uomini, abbiate coraggio. Pensate a una donna che cammina da sola, quando e dove vuole. Sì, è bella la civiltà, è bella la libertà. Chi ti ama non ti vuole per sé, chi ti ama ti vuole felice. I lividi non fanno la felicità. Denunciare viene dal latino e significa portare a conoscenza. Non vergogniamoci mai di portare a conoscenza. La casa è il luogo in cui ti senti più al sicuro. Se non è così, quella casa non fa per te. Denuncia. Educhiamo i bambini al rispetto delle donne? Basterebbe educarli a essere uomini davvero. Nel futuro che vogliamo, la violenza sulle donne fa parte del passato. Cominciamo oggi. Cominciamo oggi. Non sei sola. Chiama il CAV, il centro antiviolenza. Questo numero può cambiarti la vita. Grazie. 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 Grazie.